Non c'era per il doppio dato per presentare così a questo libro La Pasqua in Sicilia scritto da Francesco Luca Ballarò e Francesco Daniele Miceli ed edito da Bonferraro promotrice della presentazione di questo libro è stata la consigliera comunale Arianna De Luca da sempre sensibile alle tematiche legate alla valorizzazione del territorio e non nuova ad organizzare presentazioni di libri legati essenzialmente ai beni culturali locali tra i promotori anche Andrea Barbaro Galizia, presidente di Rubrica Sicilia che ha collaborato per la stesura del libro La presentazione è stata moderata dalla docente Marzia Marassà Dopo i saluti istituzionali da parte dell'assessore alla pubblica istruzione Gianfranco Castro Giovanni l'evento è proseguito con le letture di alcuni brani del libro da parte dei tre attori Filippo Giangrasso, Tiziano Burrafato e Stefania Catania che dal 31 marzo al 2 aprile hanno preso parte alla casazza di Nicosia una delle manifestazioni religiose descritte nel testo tra gli interventi da segnalare quello di Salvo Bonfirraro editore del libro ed originario di Barra Franca si tratta di un testo unico nel suo genere in quanto raccoglie le tradizioni pasquali di ben 173 comuni siciliani e che fino ad oggi nessuno aveva realizzato tradizioni e manifestazioni che non conosciamo e che a volte non possiamo conoscere poiché durante lo svolgimento di questi eventi preferiamo seguire gli eventi religiosi della nostra terra un libro che serve a comparare e confrontare le tradizioni di ogni singolo comune e capirne anche la storicità e le similitudini interessante di pregio l'intervento del professore Pino Biondo ricercatore storico che si è soffermato sui canti popolari pasquali la cui tradizione orale con il tempo è andata perduta il professore Biondo ha invitato come dimostrazione pratica di questi canti il gruppo leonfortese Icarosi du Lamento presentato da Alfredo Crimi il gruppo si esibisce principalmente a Leonforte durante il periodo delle lavorate di San Giuseppe per completare il suo intervento Pino Biondo ha proiettato un filmato in cui si raccolgono le tradizioni dei canti popolari da lui registrati in Sicilia infine l'intervento di uno degli autori Francesco Luca Ballarò il saggio descrive le manifestazioni della settimana santa che si svolgono ogni anno in 173 comuni della Sicilia il coinvolgimento al quale ci si approccia in questi eventi religiosi come ha spiegato Ballarò si basa attraverso i cinque sensi la vista, l'udito, il tatto, l'olfatto e il gusto la vista per la ricchezza dei colori intrisi, di significato e di simbolismo che caratterizzano ad esempio l'abbigliamento dei confrati l'udito che percepisce le note delle bande musicali che accompagnano gli eventi il tatto attraverso il quale gli attori con gesti appare di scenici mettono insieme la passione di Cristo l'olfatto caratterizzato dall'odore dell'incenso che caratterizza le varie funzioni liturgiche e il gusto attraverso le prelibatezze e i cibi tipicamente siciliani un libro da leggere tutto da un fiato per conoscere e rapprezzare ancora di più le tradizioni religiose siciliane